Buonasera, in tanti anni di lavoro con Arbazzino mi sono accorto di una cosa sulla quale credo non potrei essere smentito è che in qualche misura è stato sempre un ritrattista, perfino nelle sue prove più romanzesche, nei suoi racconti e nei reportage, nei tanti reportage che ci ha regalato. Improvvisamente nei viaggi, nei romanzi appaiono delle figure e lì se ne fa un ritratto secondo delle caratteristiche che tenterò di dirvi, di mettere in luce a partire da questo ultimo libro. Tenterò poi di confrontare i due volumi in oggetto stasera e per fare tutto questo vorrei partire proprio da una pagina di ritratti e immagini. Il paragrafo iniziale è dedicato a Christopher Isherwood, perché lì si dà il tono, Arbazzino dà l'intenzione di quello che volevo. L'ho fotografato perché non porto mai i libri alle presentazioni, se lo si rovinano, allora sono venuto con una fotografia. E dice così, leggo anche la prima parte per una questione di legatura sintattica, ma insomma quella più interessante è la seconda. Su diversi libri di memorie moderne una recensione non può essere interamente una routine, perché quasi in ogni generazione scattano certi meccanismi del ricordo. E fanno comprendere ai non più bambini come mai, anche in parecchi importanti secoli del passato, il gusto di leggere e scrivere soprattutto di cose viste, autentiche, che prevalga con l'età, sopra le invenzioncine di una fiction debole, poco interessante, perché riferisce i non eventi e i pensierini da caro diario di autori che non hanno avuto vita e inoltre non vivono né per dono creativo né per grazia stilistica sulla paginetta. Insomma, Palazzeschi andrò a trovare Marinetti, o Edmund Wilson ribatté a Nabokov, o anche Montgomery Cliff sarì in macchina per raggiungere Elizabeth Taylor, sono spesso più attraenti che Mi svegliai di soprassalto, o Il babbo appariva invecchiato, o Elsa e Natalia tacquero a lungo, o Bob cucinò la bistecca. Ma del resto, anche le vite del Vasari e le memorie di San Simon si leggono più volentieri che un poema o una tragedia, perché le traversie di Rosso Fiorentino e di Elisabetta Farnese vanno sempre meglio di una Cleofe che era Tristossi e di un Poro che Procombe. C'è un po' il nucleo generativo di tutta la questione, cioè il meccanismo del ricordo, innanzitutto ricordare, e ricordare è un'attività che richiede molta creatività. Ho fatto esperienza di questo quando con Alberto fu scritto quella cronologia che apre il suo meridiano, piena di ricordi, ma i ricordi cambiano nel corso del tempo, non sono immobili, non perché uno li voglia manipolare, ma perché è l'esperienza stessa che si è accumulata, da quando i ricordi accaddero a quando vengono scritti, che ne cambia la natura e la sostanza. Seconda cosa, l'avversione per i non più bambini e con il passare dell'età, per gli episodi letterari consegnati a romanzi, racconti, eccetera, si preferisce raccontare qualcosa della vita che si è vissuta. Allora, per fermare la vita che si è vissuta su una pagina, i modi possono essere molti. Ma a che cosa potrei confrontare lo sguardo di Arbasino sui personaggi che ha incontrato e sul modo in cui ce li ha riferiti. Siccome è stato molto viaggiatore, credo che la similitudine più appropriata possa essere quella... Quando si viaggia in treno, se uno fissa l'occhio di colui che gli sta di fronte e l'occhio di quello che sta di fronte guarda fuori del finestrino, si vede muovere continuamente la pupilla per fermare l'immagine che fugge. C'è una specie di solida instabilità. L'immagine è quella, ma lo sguardo che serve per correre dietro quell'immagine. Ecco, le sue pagine sono così, hanno dei punti fermi, dei nuclei stabili e poi improvvisamente intorno al personaggio principale affiora una folla di ritrattati minori che intervengono con altri ricordi, con altre catene di pensieri, eccetera. Allora, è vero, io credo che si possa dire in questo modo, ma questi personaggi secondari che intervengono nel corso dei 68 ritratti consegnati adesso a ritratte e immagini, come era stato fin dall'inizio, fin da Parigio Cara, da Grazie per le Magnifiche Rose, ci sono dei personaggi secondari che intervengono e porgono come la spalla nel duo comico porge la propria competenza all'estro del personaggio principale. E allora vorrei non essere frentito in quello che dico. Un altro titolo di questo libro forse avrebbe potuto essere Sketch, perché spesso il ricordo si ferma in una battuta orale, in una scena, in un ricordo di un dettaglio che poi passa a significare tante altre cose, rimanda a interi mondi, appunto. Edmund Wilson ribatte a Nabokov, un piccolo aneddoto, che significa molte altre cose. Se questa è la forma dominante di ritrati italiani, ho voluto cercare anche una forma dominante di solo ombre, e mi è apparsa di poterla rintracciare, visto che appunto la buona idea era quella di porre a confronto e a contrasto i due libri, la forma dominante del libro di Gonzalo e Spannasio mi sembra essere quella dell'aneddoto portatore di molti significati, cioè vedere l'attuarsi della realtà, del passato, anche attraverso grandi scenari, ma dentro questi grandi scenari degli aneddoti fortemente risonanti, al modo stesso che ha fatto uno dei maestri di entrambi gli autori di stasera, cioè Mario Praz, che è stato un maestro nel riportare l'aneddoto parziale ad alto tasso di significato, ha una risonanza importante. E visto che ho nominato l'illustre anglista, poi dirò il nome che divide i due, l'altro nome che li accomuna ovviamente è quello di Roberto Longhi, e parlando di Roberto Longhi dirò che davvero questi due libri sono delle equivalenze verbali di esistenze vissute o lette, di libri letti, di incontri avuti nel passato, di incontri avuti indirettamente. E dunque sono anche delle grandi ecfrasi che si attuano per occasioni, attraverso le occasioni che di volta in volta ci presentano. Il nome che divide, se non sbaglio, Gontales e Erbacino è quello di Cesare Brandi, che per Alberto è un maestro di luce, diciamo, per Gontales è un elaboratore di teorie un po' troppo astratte per poter servire a un serrato confronto con i fatti. Ecco, vorrei chiedere le motivazioni di tante idiosincrasie, di tante avversioni, per esempio l'avversione per Hemingway, nonostante abbia letto con golosità quel capitolo, alla fine ho visto che sotto quell'avversione forse un momento di ammirazione per una vita vissuta in maniera così disastrosa forse. Allora, Hemingway si configurano come ricordi che messi l'uno accanto all'altro funzionano come una specie di camera delle meraviglie, perché a seconda del punto di vista in cui uno decide di entrare nei vari capitoli, le prospettive che si aprono per potersi avvicinare al personaggio in oggetto cambiano in continuazione. Ovviamente questi libri non sono isolati né nella storia dell'uno né nella storia dell'altro, perché fanno dittico, almeno per tutte e due, con un libro precedente, che è Persona in maschera, per non dare se è ritratto italiani, ma in qualche misura attingono a un patrimonio di memoria segnato a molti volumi precedenti. E qui, rivedere, rimessi in quest'ordine, l'ordine alfabetico da una parte, l'ordine all'incirca, diciamo, per attrazione tematica o formale dall'altra parte, questi ricordi prendono una forma diversa, vanno a combinarsi proprio con i loro vicini occasionali di pagina o di indice. Siccome ho detto che il mio sodalizio con Alberto è un po' più antico, vorrei leggere un'altra sua pagina, perché la dimensione, la dimensione dei pezzi contenuti nel suo libro, sono pezzi di varia estensione, vanno da un massimo di qualche decina di pagine a un minimo di una, due, tre righe. E questi, in quel caso, non sono dei camei, però, sono dei ritrati in forma di aforisma. Uno dei più duri, forse quello dedicato a Brecht, che è una durezza di giudizio, sui comportamenti umani, diciamo che lascia aperta la voglia di discuterne. Devo dire, quello per me più commovente nell'intero libro, che adesso leggerò, è quello dedicato a Greta Garbo, perché in poche righe veramente si sente, non soltanto il rumore di un'epoca, il clima, l'atmosfera di un'epoca, sentono addirittura i claxon e dei taxi che passavano per strada molti decenni fa. E dice così, Greta Garbo, l'apparizione al Gran Bretagna di Atene con la sua vecchia amica Rochild, era domenica, forse non c'era il portiere, dunque Cecil vigilava i bagagli sul marciapiede, mentre la divina si spingeva in strada per fermare un tassi col gesto familiare in Fifth Avenue. chissà perché, forse erano fuori servizio, non si fermavano. Quindi il gesto del braccio venne ripetuto più volte, come in un provino cinematografico di routine, con le rughine del viso che cambiavano impercettibilmente di impazienze sotto gli occhialoni fatali neri. Ma la luce e il carisma erano tali che ci si riferiva molto naturalmente, anche a causa del copricapo, alle idee del vicino museo archeologico. Non si vedrà mai più un ciac simile, fu detto. Di una bellezza straordinaria per la sovrapposizione, questa Atene antica, il mondo del Cile, la celluloide, i taxi che non passano. E questa grande diva del cinema in bianco e nero fermata attraverso il gesto di fermare un taxi, ma questo finale non si vedrà mai più un ciac simile, mentre un ciac non era, è un sonetto, è un sonetto. È una forma così rifinita che a me sembra veramente l'inarcatura di un componimento, di un magnifico componimento di altri tempi. Ecco, della mobilità, ho detto, dovrei dire della predilezione di entrambi gli autori per il mondo anglosassone, soprattutto, piuttosto, però, insomma, pieno di interferenze mediterranee, di umori e di sapori, e soprattutto l'attrazione di entrambi per quella che uno dei maestri, il maestro della critica letterale del Novecento, per me, che era Giacomo De Benedetti, chiamava l'attrazione di entrambi per il tremendo fenomeno vita. È questo. Alberto Arbazino, per pudicizia, per sprezzatura, per autoironia, per buona educazione, ma anche per snobbismo, cerca sempre di porre questi ritratti né dall'alto né dal profondo, predilige, come è stato già notato, in fondo la dimensione della superficie. Ecco, ci sono alcune parti nei ritratti di Alvaro Gonzalo Spalaccio, dove questa idea del lavorare sulla superficie, penso al ritratto dell'anglista, del professor Prats, quando Alvaro Gonzalo Spalaccio arriva, e notate bene, non a un corso zanardelli, come se uno si sarebbe aspettato rispetto all'ingresso a Prato Premio, eccetera, ma da vicolo dei soldati, con un taxi, e vanno a vedere Conversation Peace, gruppo di famiglie all'interno, il film di Visconti, perché qualcuno aveva detto che probabilmente il protagonista adombrava la figura del professor Prats. Ecco, naturalmente il professore, come racconta Alvaro Gonzalo, resta assolutamente indifferente, anzi, forse seccato da quel tipo di risposta, però c'è un elemento di congiunzione tra il professore e la famiglia dell'ospite, diciamo, nello stesso palazzo di Mario Schifano. Il professore detesta Mario Schifano e soprattutto gli amici per quanto li vede stravaccati all'interno di questi saloni, mentre la Fantesca è affascinata, è molto coinvolta, anzi, probabilmente viene sorpresa troppo spesso dal professore all'interno nella condivisione di questo mondo strambo appunto che ruota attorno a Schifano. E anche qui quindi c'è questa restituzione di cose, così come lo fa poi nel confronto degli storici da Canova a Piranesi, come già dicevo prima, a Pacetti, c'è in fondo anche una predilezione per questo racconto del quotidiano, ma per Alvar González il racconto deve sempre poi riferirsi a qualche cosa di recentemente scritto, di recentemente pubblicato, perché in questo anche di grande generosità dà sempre conto dei riferimenti e dei rimandi a cui è essenziale poi far riferire il lettore dei suoi ritratti. La parola al professor Lemme.